Buongiorno cari amiche creatrici come me, ho aperto questo canale per condividere la mia passione, che penso che è la passione un po' di tutti noi, un'arte, creare Giuliani per me è un'arte, è qualcosa di bello, meraviglioso e quando si ha il tempo è bello condividere con tutte le persone creatrici. Seguo molto i video di Sara Bess, Anto Piccolo Fiore, perché mi danno ispirazione, sono persone molto creative, con tante idee, fantasia, usano colori giusti e io vorrei condividere con tutti voi la passione che abbiamo in comune, perché più amiche siamo in questo campo creativo meglio è, perché non condividere qualcosa che unisce tutte le persone che hanno un'arte nelle mani, ecco per me è un'arte, spero che condividete anche voi il mio pensiero, vi auguro una buona giornata, ci sentiamo presto, vi farò anche dei tutorial.